Il commissario del Ministero delle Infrastrutture per l'autobrennero A22, Mauro Fabris, Cinzia Bonfrisco, capogruppo del PDL al Senato, e il presidente della provincia di Verona, Giovanni Miozzi, nella Sala Rossa dei Palazzi Scaligeri hanno illustrato le iniziative intraprese dai parlamentari veneti per ottenere in sede europea la proroga di 50 anni della concessione dell'A22, ipotesi vincolata al finanziamento della Galleria del Brennero e al quadruplicamento della linea ferroviaria Brennero-Verona, in quanto in relazione all'articolo 47 della finanziaria, con alcune modifiche supportate dai parlamentari veneti, l'autobrennero utilizzerà gli accantonamenti per il traforo della più importante opera d'Europa, dove già si sta realizzando la Galleria di Base, e per l'indispensabile quadruplicamento ferroviario. Ma vediamo quali ricadute avranno per il Veneto queste opere. Noi diamo al Veneto la possibilità, essendo Verona e il Veneto centrali in questo snodo, perché qua si interseca il corridoio che viene appunto dalla Spagna e che dovrebbe arrivare sino a Kiev, quindi intersechiamo il corridoio 1 Berlino-Palermo con il corridoio 5, che è il Barcellona-Chiev e quindi, inutile dire, è di una straordinaria importanza perché siamo geograficamente al centro di questi traffici, si trattava però di favorire questi traffici e fare la ferrovia, il quadruplicamento e le nuove gallerie di base era essenziale perché le Alpi bisogna passarle e non c'era altro modo insomma che fare questo, dato che l'autostrada, come tutti sanno, è superintesata e costruire un'altra autostrada o costruire nuove appunto corsie era impossibile. Grazie.